Sì, vi mando! E ne un po' quando va! L'Egitto non sarà vostro schiavo! Non voglio morire così! Ma cosa pensi di fare? Sì, stai! Dietro di me, Neb! E non dovere! Sì, tanto i capi di... Sì, tanto i capi di... Sì, tanto i capi di... Sì, tanto i tuoi amicchi! Persigua! Aiutami, vai! Che ti ammazzo! Di qui non passi, cane! Gli amici! La tua fattoria. Ho visto cosa ha fatto Flavio. In quale stato ha ridotto la nostra gente. Mia madre Nenet? Sta bene? Sì. Praxilal l'ha portata a Balagre. Grazie, Bayek. Ci proteggi anche in una terra tanto lontana da quella dei nostri padri. Perché i romani ti hanno portato qui? Per nutrire la loro brama di guerre e conquiste. Hanno le baliste. Ce le fanno caricare con una sostanza che porta distruzione. L'ha inventata Vitruvio, un ingegnere romano che lavora all'acquedotto. Vitruvio? Lo conosco bene. Non riesco a credere che sia opera sua. Ci siamo liberati da quei tiranni di Roma.